Dopo la tragedia di Cutro abbiamo visto due cifre di questo governo meloni che cominciano a preoccupare. Da un lato il vittimismo, siamo sotto attacco, siamo sfortunati, succedono cose difficili, bisogna fare i conti con la realtà eccetera e dall'altro la totale incapacità perché questo decreto deciso appunto dal Consiglio dei Ministri a Cutro non serve veramente a nulla, è un decreto propagandistico, un decreto che di fatto non va a toccare le radici del problema, che ancora una volta ha questo aspetto poi anche un po' persecutorio, poi sempre penalistico, nuovi reati, nuove pene, ma non si va mai a toccare il punto vero della situazione e che il fenomeno migratorio fa parte del nostro tempo e dobbiamo farci conti, dovrà farci conti anche la destra che ha sin qui pompato l'allarme migranti e che oggi non sa cosa fare col problema che in parte essa stessa ha creato. E' di questo che voglio parlarvi oggi che è il 15 marzo 2023. Io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia ogni giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Una delle cose che mi colpì di più pochi mesi dopo la nascita del secondo governo Conte fu l'improvviso abbassarsi del volume, proprio del rumore, che si faceva intorno alla questione migratoria. Nei 18 mesi nei quali Lega e 5 Stelle furono al governo sostanzialmente non si parlava d'altro. Salvini era il vicepremier, era il ministro dell'interno e tenendo appunto alto il frastuono su questa questione, in realtà vampirizzò il consenso del Movimento 5 Stelle. Ricordate, Salvini cresceva nei sondaggi con un'ascesa che sembrava tumultuosa, irresistibile e davvero sembrava l'uomo forte del governo. Invece quando arrivò Luciano Lamorgese al Viminale, improvvisamente questa questione, che aveva tenuto banco per 18 mesi, improvvisamente si silenziò. Credo che questo fu un grande merito di Lamorgese, che io credo sia stata una grande ministra dell'interno, perché la questione migratoria è una questione che secondo me va affrontata innanzitutto con freddezza e con raziocinio, per due ragioni. Una è che i fenomeni migratori non saranno arrestati, sono una questione strutturale di questo nostro tempo, un tempo nel quale il mondo è diventato più piccolo, nel quale ci sono tragedie, guerre, povertà che naturalmente attraggono moltitudini di persone verso un continente ricco come il nostro in crisi demografica, perché non cresciamo nei numeri e quindi è un fenomeno, per così dire, osmotico che sarà impossibile da bloccare. D'altro canto il secondo motivo è che, se consideriamo i numeri italiani, l'anno scorso, 2022, abbiamo avuto circa 105.000 sbarchi e adesso, sinceramente, 100.000 persone su 60 milioni sono un numero assolutamente gestibile, se lo si vuole gestire. Ma in realtà fare delle modifiche alla legge Bossi-Fini, che è la madre di tutti i problemi, non è stato possibile, proprio perché il livello di allarme sociale che la destra ha pompato nella nostra opinione pubblica e sulla quale ha conquistato consenso, ha reso impossibile ogni intervento normativo e quindi la destra di fatto non ha voluto contribuire alla risoluzione del problema, perché sapeva che più il problema esisteva, più voti prendeva. E quindi oggi che il governo Meloni è in difficoltà, io penso che un po', come dice quel proverbio, chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché, diciamoci la verità, questa legge Bossi-Fini è una legge che rende di fatto impossibile arrivare in Italia in modo regolare e se non cambiamo questa legge Bossi-Fini e quindi non diamo delle possibilità di ingresso regolare in Italia, tutti coloro che arriveranno in Italia lo faranno in un modo di fortuna come quello che stiamo vedendo in questi giorni e che ha provocato la tragedia di Cutro. Ora, quando diciamo non c'è un modo possibile per arrivare in Italia regolarmente, che cosa intendiamo? Intendiamo che le possibilità di un ingresso, diciamo, conforme alla legge nel nostro paese sono regolate da questo decreto Flussi, che è appunto un decreto che dice quante persone possono arrivare nel paese ogni anno e anche da quali paesi queste persone possono arrivare. I numeri per quest'anno sono, tra il 2023, di 82.705 ingressi. Se non che il meccanismo per poter ottenere un visto per arrivare in Italia è cervellotico. Innanzitutto, come ho detto, bisogna che il lavoratore migrante che vuole arrivare in Italia venga da uno dei paesi previsti dal decreto Flussi. Dopodiché il lavoratore, per ricevere il visto, deve stare nel suo paese. Quindi, in teoria, l'imprenditore italiano dovrebbe assumere una persona che non conosce, che vive, che so io, in Nicaragua, in Guatemala, in Nigeria. Ovviamente non succede che un imprenditore assuma qualcuno che non conosce. Quindi, di fatto, si tratta di una sanatoria mascherata. Cioè, si tratta di solito di lavoratori che già lavorano clandestinamente in Italia, che poi devono fare un viaggio per tornare a casa propria e quindi lasciare il posto di lavoro e spendere un sacco di soldi per recuperare questo visto. Ma poi non è neanche così semplice, perché in realtà l'imprenditore, prima di poter offrire questo contratto a questo lavoratore, deve andare all'ufficio del lavoro, verificare che non ci siano italiani che siano adatti a fare quel lavoro lì, ottenere tutta una serie di autorizzazioni e solo dopo di questo il consolato... Quindi la cosa da fare è creare dei canali di ingresso regolare in Italia. Questo è il punto. Ora, c'è una proposta di legge di iniziativa popolare che poi è stata sottoscritta da tutte le opposizioni, tranne il Movimento 5 Stelle, devo dire, che evidentemente ha ancora la coda di paglia legata al fatto di aver governato con Salvini nel governo Conte 1. Comunque, c'è un progetto di legge di iniziativa popolare che deriva da una campagna che si chiama Ero straniero, l'umanità che fa bene, e in questo disegno di legge, appunto, che abbiamo sottoscritto anche noi del Terzo Polo, sono previste una serie di iniziative per poter rendere fattibile l'ingresso in Italia di lavoratori dall'estero, come per esempio un visto temporaneo che serve a trovare lavoro. Ma poi c'è anche il tema proprio della decriminalizzazione di queste persone che sono in Italia. Per esempio, nel disegno di legge di Ero straniero è previsto che se uno in Italia può dimostrare di avere un lavoro, lo si regolarizzi, insomma, perché si toglie il reato di clandestinità, che è un reato che fa capponare la pelle dal punto di vista giuridico. Poi devo segnalare che Milena Gabanelli, un paio di giorni fa, sul Corriere della Sera, ha fatto una proposta anche intelligente rispetto al tema proprio del decreto flussi. Lei dice che per fare un decreto flussi bisogna coinvolgere i paesi di origine che devono essere i paesi veri, appunto, dai quali i migranti arrivano, è inutile mettere per intenderci il Giappone nel decreto flussi, quando, appunto, Gabanelli sottolinea, attenzione, nel 2022 i migranti per più della metà sono arrivati da soli tre paesi, che sono l'Egitto, la Tunisia e il Bangladesh. Bisognerebbe coinvolgere questi paesi e dire loro, guarda, mettiamoci d'accordo su un numero di persone che possono arrivare dal tuo paese, aiutami a individuarli, aiutami a formarli, ne hai un interesse perché le persone che poi vengono a lavorare in Italia mandano rimesse nel paese d'origine. Pensate che Gabanelli dice che nel 2022 gli indiani che lavorano all'estero hanno mandato più di 100 miliardi di dollari in India, ovviamente gli indiani sono tanti, però questi sono grossi numeri, e naturalmente a quei paesi si deve anche dire che le persone che arrivano da te, dal tuo stato, che non trovano lavoro, te le devi poi eventualmente anche riprendere. Insomma, bisognerebbe fondamentalmente lavorare, come dicevo, con razionalità e fuori da questo allarme continuo. Mi sembra di poter dire che la destra, di fatto, che adesso è in crisi, a dover gestire il triplo dei numeri degli sbarchi di quando c'era Luciana Lamorgese l'anno scorso e due anni fa, sia un po' come l'apprendista stregone, quello che fa gli incantesimi e poi non sa gestirne le conseguenze. Io mi fermo qui, noi ci sentiamo domani. La versione di Ivan è un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato all'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.